9 marzo 1959. Debutta un oggetto destinato a diventare un mito. Barbie, la famosissima bambola bionda, nata da un'intuizione di Ruth Handler, moglie di Elliot Handler, il cofondatore della Mattel. Ruth, osservando giocare sua figlia Barbara, nota che alla bambina piace attribuire ai suoi bambolotti ruoli da adulto, anche se hanno sembianze da neonati. Suggerisce perciò al marito l'idea di una bambola adulta che sarà prodotta e chiamata Barbie in onore della piccola Handler. Con oltre un miliardo di esemplari venduti in 150 nazioni, Barbie diventerà la bambola più venduta della storia.